Ciao ragazzi, bentornati su Mega Wow! Oggi è un giorno molto importante In queste settimane abbiamo visto moltissimi robot sfidarsi nelle arene Robot di tutti i tipi Quelli che sparano slime fotonici Super armi megagalattiche con i laser E devo dire che mi dispiace anche un po' essere arrivati a questo punto Ma ora si dia il via alla finale! Benvenuti al Ready to Robot! Dipenderà tutto da questo La grande sfida che stiamo tutti aspettando Dove ci sarà un vincitore e prendi tutto per sopremazia Il Meltdown! Ecco Mongo! E Hardware! Questi due guardieri selvaggi sono Ready to Robot! Menterò grande! Ti sottometterò! Mongo ha portato il gioco a un altro livello Mosse incredibili, una potenza sconcertante Ma la precisione è fondamentale Diventerai un mucchio di cenere! I due titani stanno dando il massimo Potrebbe andare ancora meglio? Assolutamente! Diamo il benvenuto all'ultra esagono! Contatto! Sono delle palle di slime E arrivano da un esagono accanto a te Bam 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 Bum 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 Ah, è di questo che stavo parlando! Ehi, vediamo che fa questo pulsante Il Meltdown! E vai, ce l'ho fatta! È un piacere vederti, Hardware! Potrebbe essere la fine per Hardware Ma un momento Mongo è bloccato dallo slime colla E anche Hardware! Non riescono a muoversi e nemmeno a nascondersi Lo slime colla è più appiccicoso delle mosche su un cane Ma cos'è questo suono? Palle di slime in arrivo! Non ce la faccio a guardare Ma è incredibile! Siamo bombardati dallo slime! Un'apocalisse di slime! Hardware è demeccanizzato Mongo è un rottame Ma c'è ancora una speranza Una super mega esplosione sul muro dei rottami Chi la scatenerà potrebbe diventare il campione È davvero scivoloso! Hardware è nei guai! Un assaggio di agonia con i piedi! Sembra che Hardware sia spacciato Mongo sta per ridurlo in poltiglia! Che mossa di Hardware! Ha messo capo a Mongo in una pozza di slime elettrico! Ha vinto Hardware! Che battaglia epica! Ha esaltato una stagione sensazionale! E ha incoronato il campione del secolo! Per la prossima edizione migliorate le vostre macchine! Esercitatevi e siate sempre... Ready to robot! Puzza! Sì! Grande! Grande Hardware! Grandissimo! Ha vinto Hardware! Beh era dall'inizio che dicevamo che doveva vincere lui! Anche se Bananas! Vabbè ragazzi! Scrivetemi nei commenti qual è il vostro Ready to Robot preferito! E ditemi se secondo voi era lui che doveva vincere o no! Ci vediamo alla prossima! Ciao! 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 Grazie.